Questi sono dei nuovi assurdi mostri di Poppy Playtime che sono apparsi su Gmod. Oggi è che dovremo distruggerli in tutti i modi possibili e arrivare al boss finale, ossia un aggy-waggy gigantesco fatto di cibo, c'ha la faccia che è una pizza, le gambe sono degli hot-dog, i piedi sono delle patatine e il più strano che io abbia mai visto in assoluto. Secondo voi, riusciremo a sconfiggerlo? E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Perché Cat non risponde mai al telefono? C'è un iPhone 27 e non lo sa usare, non è possibile! Lo aspettavo qui a casa un'ora fa perché finalmente sono riuscito ad arredarla! Guardate quanto è bella! Guarda, guarda, ho arredato il nostro laboratorio! Quale top hai? Prima di tutto siamo un cane e un gatto e non c'è nessun topo! Lascia stare il lanciafiamme! Sì, il topo Isaac! Aspetta, aspetta, prima di dare fuoco a tutta la casa, prima analizzala, poi se non ti piace gli dai fuoco, va bene? Ok? Va bene, però il topo ce l'abbiamo noi! Il topo Isaac! Il topo, è vero, è vero, Isaac topogigio! Allora, vediamo! No, ah, Cat, un attimo, Cat, un secondo, guarda! Aspetta, te lo spiego! Allora, qui c'è il divano, spostati, c'è il divano che dà alla TV, ok? Tu guardi la TV, doppio schermo, però se la TV non la vuoi guardare, la vuoi solamente sentire, ti metti qui e l'ascolti! Io non so che dire! Aspetta, sono nel soffitto, aspetta! Poi, no, la TV, l'ho pagata a 37,6 terzi! No, ti prego! Vieni, sediti al tavolo, parliamo! Vabbè, prego, prego, prego! Guarda, hai anche... Cos'è sta roba? Hai anche le gambe nella melma! Che schifo! Allora, Sandy, dai, però non devi per favore... Aspetta, però io aspettavo degli ospiti! Hai visto... Ah! Hai visto Giacomo da qualche parte? Era mica quello con una tuta con scritto 115 dietro? Eh, probabilmente sì, perché è uscito da un vault di Fallout, doveva venire a casa per ospitarlo perché gliel'hanno distrutto! Cat, dov'è Giacomo? Abbiamo un progettino! Mentre stavo arrivando, stavo andando di corsa! Ok! E ho investito una persona! No, Cat! Ho investito in Giacomo! Che per caso! Aspetta, aspetta! Era lui! Vai da questa parte, vai da questa parte, c'è un'altra porta! Guarda! Ma domani, era lui! Perché l'hai investito poi vicino! Sì, era proprio lui! Era proprio... Oh! Scendi! Era proprio Giacomo! Giacomo, tutto a posto! Sì, direi proprio che è lui! Vabbè, ma in realtà, guarda, sta bene! Guarda! Ma dai! Giacomo, no! Aspetta! Aperto menu che non dovevo aprire! Già, no! Bruciare anche me, Cat! Ma perché ogni video insieme deve finire così? Con persone bruciate! Cat, ho una domanda! Tu hai detto di essere venuto con una macchina! Però qui non c'è nessuna macchina! Eh, questa! Questa non è una macchina, Cat! No, non ci posso credere! Cat! Vabbè, comunque... Senti, io ti ho invitato a casa anche perché ho sentito il maestro e ci ha detto di andare nel palazzo perché sta succedendo qualcosa! Non so che cosa, ma ha detto andate dai miei allievi! Loro sapranno dirvi meglio, dei miei allievi! Io non so, manco barlari ormai! Comunque devo dire che questa postazione da gaming, oddio, è bella perché è portatile, letteralmente! Mancano tastiere e mouse e Cat, manca una cosa importantissima! Aspetta! Cosa? Manca una cosa importantissima! Dove sono gli RGB? Una postazione da gaming senza RGB? Ma com'è, ma com'è, com'è ti viene in mente? È il momento gaming! Oh sì! È il momento gaming! Oh sì! È il momento gaming! Mi sto rubando la postazione da gaming! Vai! Gioca! Videogiochi! Videogiochi! No! Si è incastrato! Vabbè, comunque, vieni, muoviti! Però, aspetta, bravo, si stai... No! Cat! Cat! Ok, piano, che sennò distruggi la postazione da gaming! Scusa, ti ho tirato una sprangata in testa! Vieni, saliamo! Dobbiamo parlare con gli allievi del maestro perché loro sapranno dirci meglio! Salve! Allora, ci ha mandati il maestro! Dobbiamo andare dal maestro! Ma perché ci ha... Aspetta, aspetta! Aspetta, Cat! Prima di fare mosse azzardate, capiamo! Perché sennò non sappiamo dove andare a posto! Scusate, una domanda! Il mio amico è un po' arrabbiato! Prima mi ha bruciato casa! Cioè, la nostra casa, in realtà, ma lui non si ricorda che è anche casa sua! Però, ok! E ha ucciso una persona! Quindi state molto attenti alle risposte che mi date! Allora, perché il maestro non mi ha detto direttamente dove... Si sta avvicinando sempre di più! È tipo un Nexbot! Con la faccia sporca di sangue! Cos'è, sei diventato? Peter Griffin? Va bene! È un Peter Griffin! Il maestro si trova nelle fogne e deve darci una missione assurda! Eh, sì! Ma non poteva di... Dove si... Falli esplodere, per favore! Dobbiamo andare nelle fogne! Si sposti! Sì, grazie! Sono vivi? Sì, ma c'è un altro metodo! Tu vai dal maestro! Eh, ma io voglio... Allontanati il più possibile! Sei sicuro di quello che stai facendo? Allontanati il più possibile! Aspetta! Voglio piazzare una telecamera! Perché sono curioso di vedere che cosa fai! Mi sono allontanato! Sono giù! Kat! Kat! Tu sei sicuro che non muoriamo lo st... Kat li stai ammazz... Kat! Kat! Sì? Allontanati il più possibile! Però sono... Porto lo stesso! E non ti stai ammazzando abbastanza! E sei distrutta la macchina! Ho capito! Vabbè, aspetta! È rimasto solo questo! No, te lo volevo lanciare in te! Non funziona, va bene! Senti, ma... Se facciamo una cosa più divertente è che io mi siedo e tu mi trasporti... No! Puoi diventare tu la manna... Dai! Ma perché devi andare sempre così? Sulle mani! Sì! Allora, dai, andiamo alle fogne che non ho ben capito perché il maestro si trovi nelle fogne Probabilmente sta addestrando una nuova era di tartarughe ninja Le tartarughe ninjago Perché sono fatte con il Lego Lego ninjago Tu sei consapevole che io correndo riesco ad arrivare prima di te che stai sulla macchina? Vuoi vedere? Sì, puro! Aspetta, stai fermo! Stai fermo! Kat! Kat! Aspetta! Fermati! Un secondo! Guarda, io riesco ad arrivare prima di te facciamo... Aspetta, mi serve un'arma Ok, questa è perfetta perché ho la pistola di Fallout non lo so Va bene, sei pronto? Tre, due, uno Vai, vai, vai No! Bravo, bravo da questa parte Kat! Kat! C'è una problematica Un'altra macchina RGB distrutta! Perché c'è una macchina RGB distrutta? Già, la bomba atomica l'ha fatto pure effetto qua Ho capito Ma perché ce n'era un'altra costruita qui, Kat? Non lo so Forse era la macchina del maestro Ah, dici che anche lui ha costruito una postazione da gaming portatile Ah, pure lui è un gamer Hai ragione Il maestro del game Cioè, lui è Pratino 1 su Rainbow Six È il maestro Drial Marza Perché giustamente È un game... Non mi hai colpito per cinque volte O mi sentito il trestino Non sai spara Sono due le cose Senti, ti aspetto Anche perché qui il maestro non c'è C'è ancora la telecamera puntata sulle zambe dei capibari Vabbè Ci sono dettagli Vieni Kat, io ho un po' di paura Per favore Puoi venire subito Mi sto arrivando, boo Dove sei? Ma non ti vedo Kat Aspetta Per favore non mi jump Kat, ti vedo Kat, no Kat, no No, Kat Kat, no Perché Servire a topo Per fare cosa? Servire a topo Non lo so Andiamo Ragazzi io sto registrando i video con uno psicopatico Ti prego Da che parte dobbiamo andare? Andiamo di qua? Non lo so Qua è stato danger C'è scritto E ho capito Anche lì c'è scritto danger Ma pure l'agere Ho sentito un verso strano Kat Kat, perché il maestro ha due grab pack Non sono funzionanti Non sono dei veri grab pack Vero maestro? Cioè se io lo pre... No in che senso? Sono dei veri grab pack No, Kat Kat Kat, non mi picciare Kat, non mi picciare Ma questo non si poteva fare Che figata Ma c'è Spider-Man Guarda che bello Aia Ho dato una testata al muro Eh, sì Ok maestro Belli grab pack Tutto molto simpatico E carino Dobbiamo uccidere I mostri segreti di Poppy Playtime Kat Siamo passati dagli animatronics segreti Ai mostri segreti Ci sono degli aggy-waggy stranissimi Ha detto che c'è un aggy-waggy pizza C'è una mommy long legs Kat No, Kat Kat ha uno di vita Kat ha uno di vita Lascia perdere i fumogeni per favore Ai via Posso prenderti a schiaffi No, no Maestro Va bene Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare nella fabbrica Kat no Va bene Entriamo nella fabbrica abbandonata Kat ma questa non è neanche la fabbrica di Poppy Playtime dei giocattoli Ma che bellissima sta macchina Tu pensi alla macchina Però ok abbiamo il grab pack Iniziamo l'esplorazione Dobbiamo trovare dei mostri segreti di Poppy Playtime Io già mi sto cagando addosso Kat, Kat, Kat Cosa? C'è Boxy Boo? Ma è un hamburger È Boxy Burger Vado ad attaccarlo dall'alto io In che senso? Che vuol dire provi ad attaccarlo dall'alto? Kat, Kat, Kat Attento, attento Che cosa sto facendo? Sì lo so Kat, Kat Perché sta venendo verso di me? No, 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 no Lascia stare il mio amico Boxy, Boxy ti prego Ok si è bloccato Mi sto cagando addosso Picchialo Picchialo Si è buggato Picchia, 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 picchia Rello Sto sparando Come non va? Come non va? Aspetta vengo anch'io da quella parte Riesco a venire No, no, no Aspetta Ok, ok Ci sono anch'io qua sopra Prendilo Prendilo Guarda quanto è brutto È un hamburger Comunque sì, mi piace il nome Boxy Burger Non è che se lo picchiamo Lo prendiamo a manate Ma tira No, no, no Allora con molta calma Con molta calma Boxy Boo Per favore Stai fai Poggo So cosa fare Dov'è? Dove sei Kat? Dove stai? Allontanati Perché si è fermato? Sentirei solo la musica Aspetta No, Kat, Kat La radio No, attento Ha funzionato La radio che riproduce musica anime Molto kawaii Ha funzionato E vediamo facciamo la foto di Vittoria Vai, vai Foto Foto di Gruppo Ma guardate Aspetta che ti accarezzo Ti ho accarezzato così tanto Che sei deceduto Sei scemo Allora Kat Qui abbiamo tante belle cose da esplorare Abbiamo già trovato uno dei mostri segreti Però mi ha parlato di Un aggy waggy pizza E soprattutto Di altri mostri strani C'è Mommy Long Legs Robotica Ti prendo al volo Ti ho preso le gambe Ti ho preso No Come? No aspetta Questo non ha senso No aspetta Kat Questo non ha senso Aspetta Bisogna fare un test qui Kat Trovare un modo per Oltrepassare questa recita Kat Kat L'hai visto? Io non l'avevo visto che si era mimetizzato lì Lo stai Lo stai vedendo? Kat Sì ma Ah qua si può passare Ah qua qua Kat Kat ci sono le scale Vieni 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 qua L'altro Dove? Kat sta camminando Stava camminando? Ehi là Sì Tutto bene? Aspetta volo da questa parte Non mi sta seguendo Kat Ok buono Aspetta un secondo Ma è tutto rotto Ma infatti Ma Ma ha tipo What? Ai chiud Ah Scappa Spostati Ma Kat Ma Kat Ma Kat Ma Ma non ho capito Non posso Ma Si ricorda Non lo posso Ah si lo posso No devo analizzare questa roba Devo analizzare questa roba L'avete visto Signor editor L'ha visto Ah che schifo L'ha visto anche lei Che c'erano solo chiodi Che cosa Penso di averlo rotto Ok Non credo sia ancora vivo Fai ciao con la mannina Ciao Comunque Voglio un piccolo replay Di tutti i chiodi Perché mi sono avvicinato C'erano chiodi Mi ha tirato un pugno Quando l'hai ucciso E' tornato normale Guarda No vabbè ma questo agghiuacchio È una roba assurda Che devi fare Ma smettila Kat Basta Oh Hai visto Il rinculo del colpo Ti ha ammazzato Assurdo Come hai fatto a morire Scusa Io non ne ho Scusa Ti giuro No ti prego no Kat dici che sto coso Riusciamo a metterlo in funzione Ma che ciu ciu Guarda là C'è la luce in fondo Oddio Ma lì si può scendere Andiamo verso la luce Dove sei? Aiuto Dove Kat Sono volato in alto Ma come si è volato in alto Ma dove sei? Per favore Ma Ti prendo a schiaffi Kat Ti prendo a schiaffi Sinistra o destra? Non lo so Andiamo a sinistra Che ne so Oh C'è un'uscita C'è un'uscita Perfetto Kat 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 Aschida un attimo Allora No che fai Dove vai? Dove vai Kat? Kat Non mi lasciare No No Kat No No Bello di papà Aspetta Questi no Ma se li comincia Mamma mia Allora Lasciali qui Prima capiamo la situazione Va bene Ma è una Mommy Long Leg Non so più parlare Mi sto cagando addosso È una Mommy Long Legs Capito? Perché è una mummia Oh mamma mia E là sopra C'è Oh no C'è Daddy Long Legs Versione Pupazzo di neve Tipo Jack Frost Kat Dobbiamo capire No Kat Le bombe no Sto portando A meno così Già l'abbiamo a fianco Ok bravo Però voglio prima capire una cosa Kat mi sono incastrato Vieni col grab pack per favore Ok Secondo te riusciamo a prenderla a schiaffi finché non esplode? Vai Può provare Vai Kat Vai Col pesce Aspetta Non funziona Non funziona Non funziona No 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 Kat Aspetta Ce l'ho sotto Allora Tu tieni i mommy long legs Io provo a schiaffeggiare Questo coso Sì tranquillo La tengo La tengo Kat che sta succedendo Stanno venendo tutte e due da me Ok si è bloccata Si è bloccata Kat per favore le bombe Per favore le bombe Per favore le bombe Le lancio Sono esploso solo io Dice che mi ha ammazzato tu Kat Tranquillo bro Sì tranquillo bro Zip dove Kat Sentito una grossa esplosione Ciao Che cos'è Eh Cos'è Cos'è questa roba che sta camminando Kat ma dove sono No Ma sono ancora vivi No Kat Abbiamo qualche arma leggermente più forte delle tue stupide bombe atomiche che non funzionano Kat Wait Kat Ecco lei Che cos'è Che mi hai dato Non mi hai dato niente Guardi nel suo inventario Bro non mi hai dato niente 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 bro Non mi hai dato niente Apre Because I can't give you the gut gun Va bene Stai dicendo che mi devo prendere da solo l'arma gatto Eh sì Fatto Si è aperto il razzo Tu sei un pazzo Tu sei un pazzo Ho sbagliato Ho sbagliato Credo di aver sbagliato Riprendo l'arma gatto Andiamo Andiamo a distruggere Kat ma Possibile che tu Sei un dispenser Di nucleare Non ho capito Ho cose molto più potenti Sì aspetta che c'è C'è il signor Il pupazzo di neve Che mamma mia Ti sfondo la te Oh È un Oh no no Oh no no Kat Kat Aspetta Devo mirare la testa Guarda che è nascosto Dietro al palo Oh fatto Guarda qua Kat io sta roba Non l'avevo mai vista Sinceramente Ma guarda Guarda quanto è brutta Guarda quanto è brutta Cioè ok Il pupazzo di neve Me lo posso accollare Ma lei no Dov'è il pupazzo di neve L'avevo nascosto Cioè va bene il pupazzo di neve Il pupazzo di neve È un pupazzo di neve Un po' brutto Un po' ambiguo Ma no Cioè la mummia no Guarda come mi sta fissando Anche se è morta Kat lo sai che io ti denuncio Vero Cos'è sta roba Cos'è Spiega Spiega Quante me ne rimangono in tasca Che vuol dire in tasca Che vuol dire in tasca Guarda quanto Cioè ci sono Cioè ci sono C'è una ghiwagi Che sta giocando a nascondino Non farglielo notare Non farglielo notare L'hai visto vero L'hai visto Kat no no Kat Kat Usciamo Usciamo le armi Usciamo le armi come si deve Kat stai fermo Lui non ci ha visto Ma noi abbiamo visto Lui Kat Oh ma Oh mamma mia Ma è un aghiwagi Io ce l'ho pronto Fatto di legno Aspetta Aspetta Ok Perfetto Le bombe non servono Ok Lascia le bombe Almeno una me ne voglio portare Va bene Portatene una E le altre elimina Per favore Ok Dobbiamo trovare L'aghiwagi gigante A quanto pare Quello fatto di pizza C'è un aghiwagi Fatto di pizza Che dovrebbe essere Il boss finale Dov'è la tool gun Guarda La physics gun Volevo dire Guarda Guarda quanto è brutto Guarda quanto è brutto Mamma mia C'è delle uova di piccione Sulla spalla No vabbè Posso prenderla a schiaffi Va bene No Kat Kat lo vedi Lo vedi dalla porticina Lo vedi dalla porticina Con quella specie di È un po' grosso È un po' grosso È un aghiwagi Pizza gigante Kat 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 allora Allora attenzione Kat allora attenzione Io però voglio documentarlo Voglio documentarlo Eh vieni da questa parte Pasticino Da me Da me Devo documentarti Vieni Vieni Oh Popcorn Patatine No oddio C'ha davvero le patatine Al posto dei piedi C'ha il popcorn come corpo C'ha dei panini come mani Ok vieni Vieni da Ma sicuro quindi non vuoi Fare un attacco Bombardamento Un po' qualcosa del genere Io sto cercando un attimo Di analizzarlo Voglio vedere prima di tutto Quanto danno fa Ahia Mi ha tirato uno schiaffo Ok io sono pronto Aspetta vieni qua Vieni qua Da questa parte Da questa parte Dove vai Dove vai Vieni da papà Vieni qua Vieni Aghiwaghi Vieni segui Aia Aspetta Aspetta Ah Mi ha mangiato Bombardalo Bombardalo Signor sì Aspetta che non ci sono Dove sei Eccomi Eccomi Prepara il bombardamento Signor sì Aspetta Metto la telecamera Vai vai Falli partire Sì L'hai mancato Con tutti e due Mi hai accecato Cat Cat Risolvo subito il problema Sono morto su un container Aspetta Non vedo niente Cat Dov'è Dov'è andato Dov'è il coso gigante Sta sempre qui Sta sempre qui da me Sì 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 Sta cercando di prenderci Ma c'è il ponte Perché è stupido Che cosa vuoi fare Cat Io voglio prendere la schiaffi Finchè non muore Ma lo potrei usare Muori Muori Questa mi sembra simpatica Muori Battaglia epica contro Va bene Può essere Dai dai Ti ammazzo prima io Ti ammazzo È morto Siamo morti anche noi Sono su una trave Esploso con le braccia Che ormai non ho più segni di vita Ma abbiamo distrutto tutto Al prossimo video